It's a kind of magic, 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 magic Niente, che dobbiamo dire? Che dobbiamo dire? Che grazie a questo ragazzo il Parma è andato a fare altri tre punti, tre vittorie consecutivi in campionato, nelle prime tre e lo dobbiamo a lui principalmente, ma non solo a lui, grazie a mia figlia per questa bellissima corona, contorno, per festeggiare la vittoria, l'ennesima vittoria del Parma e andiamo a vedere cosa è successo in questa partita, Pisa-Parma, Pisa-Parma 1 a 2 1 a 2, abbiamo vinto fuori casa, abbiamo fatto filotto Allora, al quinto minuto abbiamo il pallo di partipilo di testa, quindi cominciamo subito bene abbiamo rischiato di passare in vantaggio ancora dopo soli 5 minuti al minuto 13, quasi 14 praticamente, abbiamo un grandissimo SOM che parte da lontano fa due o tre dribbi nel centro campo che sembrava praticamente Cassi, sembrava il miglior Cassi praticamente fa tutto lui, alla fine è in buca per Bonni, in buca per Bonni che controlla benissimo, non si lascia soffiare il pallone del difessore, la protegge bene e segna con un tocco sotto, quel ragazzo qua, grandissimo Bonni giallo-blu e al ventiseesimo, e quindi 1-0 per il Parma, al ventiseesimo Bonni salta l'ultimo difensore del Pisa in questo caso Leverb che praticamente lo stende, per l'arbitro è un semplice fallo da ammunizione ma per fortuna nostra poi si va al VAR e il VAR conferma che si tratta di espulsione perché Bonni praticamente se non veniva steso andava in porta quindi espulsione Pisa in 10 e purtroppo da questo momento il Parma smette un po' di giocare perché diciamo in questo inizio di partita ha fatto tutto il Parma, rischiava di fare il 2-0 ma da quando è stato espulso Leverb praticamente il Parma ha un po' smesso di giocare non ha più fatto una grande pressione, quindi ha fatto un po' giocare il Pisa Parma che tende il Pisa per ripartire diciamo rapido in contropiede 41esimo Bonni a centrocampo fa fuori Marin che si becca un giallo quindi grande partita di Bonni che tra espulsione degli avversari, ammunizione degli avversari e il gol veramente si sta confermando c'è da registrare un grande culibali come al solito che continua a recuperare il pallone in difesa non si riposa mai ma nonostante questo tutte le partite dà delle grandi soddisfazioni poi registriamo che nel secondo tempo il Pisa cerca di reagire come ha già fatto appena dopo che è rimasto in 10 uomini entra Ciollac, esce Partipilo, fuori Mijla e dentro Bejic al cinquantesimo una grande giocata di D'Alessandro che devo dire il migliore del Pisa sicuramente dribbia sulla sinistra, entra in aria e tira Ciccizzola para, non trattiene ma per fortuna a difesa del Parma risse comunque a salvarsi da allontanare il cinquantesimo sempre ad Alessandro che serve all'indietro Marin al limite dell'aria di rigore che tira forte ma alto, diciamo un'azione sempre ispirata da Alessandro, il migliore dei suoi un secondo tempo solo diciamo di marca Pisa per la maggior parte che inspiegabilmente il Parma lascia giocare al cinquantesimo abbiamo l'ingenuità purtroppo clamorosa di Coulibaly che già ammunito si spinge da Alessandro da dietro in un punto fra l'altro per niente pericoloso e alla fine viene espulso per doppia munizione, un po' fiscale diciamo così al cinquantesimo esce Somm ed entra Osorio, esce Bonni ed entra Bernek al settantatresimo Bernek sulla fascia di sinistra mette in mezzo basso in area e Ciollac anticipa di un soffio scusate, Ciollac viene anticipato di un soffio quindi diciamo prima palla e primo quasi gol di Ciollac in questo momento al settantatresimo abbiamo un Pisa con un possesso di 62% a 38% in 10 uomini quindi questo vi fa capire come il Pisa diciamo si è entrato in campo in un modo diciamo veramente come dire orgoglioso e con voglia di fare con voglia di recuperare l'incontro nonostante l'inferiorità numerica l'ottantesimo esce Bernabè dentro Ernani Bernabè ormai sfinito all'ottantesimo e all'ottantatresimo abbiamo l'arbitro che fischia rigore per un fallo di Bezic con la palla Bezic che cerca di anticipare un avversario che sta per attirare appena dentro l'area di rigore in zona centrale il fallo il presunto calcio di rigore fischiato dall'abito viene confermato dal VAR ma vi assicuro che non si è visto nulla nessun tocco cioè praticamente un rigore fantasma e comunque 1-1 e gol di Valotti con Cicci Zola che a momenti la parava al 94esimo abbiamo il gol che decide l'incontro il gol di Ciollac grandissimo numero di Bezic sulla destra fa sedere il diretto avversario prima di andare al cross o meglio fa fuori l'avversario che cade per terra con le sue finte entra in area di rigore la mette in mezzo bassa all'indietro per Del Prato che la butta subito in mezzo sempre a caso terra per Ciollac che va in gol di due passi e quindi Ciollac al secondo tentativo la butta dentro e quindi facciamo un applauso anche al puntero Ciollac che finalmente va in gol dopo due sole occasioni create dei compagni ora mi tolgo questo allora mi tolgo questo per il commento finale allora il commento finale è molto semplice abbiamo vinto la partita abbiamo vinto la partita con il cuore perché non appena abbiamo subito l'1-1 abbiamo voluto vincerla e poi ci è andata bene di riuscire a vincere a due minuti della fine però dobbiamo dire che il Parma oltre ad aver avuto più occasioni e specialmente il primo tempo ha giocato molto meglio questa espulsione l'ha un po' condizionato perché invece che chiudere la partita si è un po' seduto sugli allori e quindi rischiavamo veramente di portare a casa un punto e basta però il bello è che la squadra ha dimostrato sull'1-1 di volerla recuperare e volerla andare ancora a vincere quindi la reazione c'è stata e vi dico un altro commento cosa può essere Bonnique continua ad andare bene Cholak che speriamo che entri in forma ma soprattutto ragazzi quello ragazzo qua io ve l'ho già detto ve l'avevo già detto si è confermato praticamente con un paio di finte ha fatto cascare per terra il diretto difensore che lo stava marcando per impedirgli il cross poi è entrato in area e intelligentemente lui anziché essere egoista a fare 40 dribbling alla miaila la dà sempre al compagno fa un dribbling in modo che crea la superiorità e poi serve il compagno oppure scambi con degli 1-2 bellissimi quindi questo qua speriamo che continui a farci sorridere come sorride anche lui mentre questo qui ci deve continuare a regalare dei bei cioccolatini Cholak regala ci dei bei cioccolatini dei bei gol soprattutto contro la reggiana quindi adesso andiamo a giocare in casa contro la reggiana sabato alle 18.30 e dobbiamo distruggerli distruggerli non intendo finire 6-0 magari a me basta che li surglassiamo che non gli diamo neanche mezza occasione per segnare e noi invece la portiamo a casa in qualsiasi modo non la dobbiamo portare a casa perché sarebbe veramente importante un Parma che diciamo non mi è piaciuto molto una volta che è stato in vantaggio perché stava giocando a Dio e si è messo a dormichiare però l'esperienza insegnerà e secondo me questa cosa qua anche questa cosa qua cambierà perché diciamo sono errori che possono costar carri adesso comunque godiamoci il fatto che il Parma ha comunque reagito all'1-1 del Pisa fra l'altro abbiamo subito gol solamente non su azione ma su calcio di rigore calcio di rigore fra l'altro vergognoso perché è vergognoso perché dal replay che si è visto poi non so se il Van aveva altri che non ha fatto vedere volutamente secondo me perché non si vedeva niente cioè si è visto Beggi che completamente ha ignorato si è bloccato lì come una statua questo qua è volato come se l'avessero spinto con un razzo di SpaceX e quindi mi viene da ridere però ci hanno concesso rigore contro anche il VAR l'ha confermato e non si sa cosa hanno visto non l'hanno fatto vedere dove c'è il tocco perché non si è visto niente un cazzo di niente e il risultato è che noi potevamo pareggiarla quando meritavamo comunque di vincere c'è a dire che il Pisa ci ha messo un po' in difficoltà quindi in pareggio non sarebbe stata una cosa clamorosamente grave però c'è da dire che giocavamo fuori casa e con un Pisa che fino adesso non ha fatto grandi risultati quindi è un risultato fantastico godiamocelo e tutti pronti per affrontare la Reggiana sei pronto Bonni o chiunque giocherà pronto Bonni pronto lui che lo voglio comunque che giochi assolutamente e pronto te assolutamente regalaci gol contro la Reggiana e basta io ragazzi vi saluto complimenti al Parma perché l'abbiamo portata a casa e ci ha fatto godere come dei ricci che a momenti volavo giù dal divano quando ho assegnato Ciollac e va bene così vi ringrazio tutti per ascolto scusate se non posso fare il post partita subito dopo il match perché è impossibile per me per lì faccio appena posso vi saluto a tutti un caloroso saluto giallo-blu e forza Parma alla prossima ciao